Il primo cittadino Pietro Valent difende la qualità del San Daniele e chiede di fare subito chiarezza. Tutte queste notizie dice che sono solo un danno. L'incrocio tra chi va in vacanza e chi torna sta creando disagio a nord-est. Punti critici il nodo di Palmanova, Lisert e Latisana. Velasquez si dichiara pronta a valutare i cambiamenti in vista del Parma. Convocati nuovi acquisti è Kong e Teodorcik. Buon pomeriggio dalla redazione di Udinews. Ben trovati a questa edizione meridiana del nostro Tg e che apriamo con la notizia dei funerali di Stato per parte delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. Funerali che si sono appena conclusi in questa giornata per la quale è stato proclamato il lutto nazionale. Una giornata triste per l'intero Paese durante la quale si è però aperto un piccolo spiraglio di sole. Per Rita Giancristofaro e Federico Cerne, la coppia di Triestini che viaggiava in auto diretta all'acquario e rimasta coinvolta nel crollo del Ponte, ci sono dei piccoli ma importanti miglioramenti. Il punto della situazione è nel primo servizio di Alice Mattelloni. Sale a 41 il bilancio delle vittime del crollo del Ponte Morandi dopo il ritrovamento sotto le macerie di un'auto su cui viaggiavano mamma, papà e una bambina di 9 anni. Sale il bilancio in una giornata triste per l'Italia in cui si commemorano le vittime della tragedia. Giornata di lutto nazionale in cui alle ore 11 sono stati celebrati i funerali di Stato nel padiglione Jean Nouvel della Fiera Genovese. In cocomitanza è stato osservato un minuto di silenzio su tutte le spiagge d'Italia ma tante sono le iniziative in onore delle vittime. Dal minuto di silenzio alla catena umana, dalle bandiere a mezzasta, di fronte ai municipi alle serrande abbassate dei negozi. Un lampo di luce arriva però dalla notizia positiva per la coppia triestina rimasta coinvolta nel crollo. Le condizioni del fisioterapista dell'Alma Trieste, Federico Cerne, come riferito dai sanitari dell'ospedale in cui è ricoverato, sono in costante miglioramento. La compagna, Rita Cristofaro, risulta essere sempre in terapia intensiva, sedata farmacologicamente, ma oggi, riferiscono i parenti del compagno, potrebbe essere risvegliata. Nel frattempo è stato convocato per lunedì un incontro in regione con i vertici strade del Friuli Venezia Giulia per verificare lo stato di fatto e l'iniziativa in essere inerenti alla viabilità regionale, la sicurezza delle tratte stradali e delle strutture di competenza. Passiamo alla cronaca locale. Adesso nuove prese di posizione sullo scandalo dei prosciutti dopo le dichiarazioni del Consorzio che ha preannunciato di costituirsi parte civile e anche della Col di Retti. Oggi è intervenuto il sindaco di San Daniele, Pietro Valent, che ha fatto un distinguo puntando l'indice sulle ripercussioni per l'eccesso di attenzione mediatica sul tema. Sentiamo l'intervista realizzata da Domenico Pecile. Dal sindaco di San Daniele, Pietro Valent, chiediamo un giudizio su quanto sta accadendo nel mondo dei prosciuttifici dopo lo scandalo sollevato dalla procura di Pordenone. Sì, è una notizia tritta e ritritta. Spiace che con cadenza piuttosto regolare venga riportata alla luce questa storia. Il messaggio che invece voglio che passi ai lettori e agli ascoltatori è che il San Daniele è un prosciutto di qualità, i controlli sono efficienti e non c'è nessun rischio per la salute. Per cui questo è il messaggio che vorrei che passasse più che ripetere sempre la stessa storia di un'indagine che al momento è solo un'indagine e non è ancora un esito definitivo. Però il consorzio dei prosciutti ha mandato dire che è pronto a costituirsi parte civile. Nel contempo col diretto chiede invece chiarezza subito proprio per tutelare l'immagine è un brand di carattere internazionale. No, sicuramente ha ragione. Sia il consorzio che la co-diretti sono due aspetti differenti. Per quanto riguarda il consorzio è sicuramente se verranno curate delle problematiche, delle responsabilità è chiaro che chi è danneggiato è proprio i produttori di San Daniele perché all'interno della filiera risulteranno svantaggiati anche perché come avete letto ci sono un certo numero di cosce e di prosciutti bloccati e sono un valore abbastanza ingente. Per quanto riguarda la co-diretti dice bene che bisogna fare chiarezza subito proprio per quello che diceva in apertura dell'intervista perché questa cadenza con la quale viene ripetuta una notizia che più o meno è sempre la stessa continua a danneggiare ogni volta il marchio San Daniele invece di sottolineare che invece un marchio di qualità, un prodotto di eccellenza è un sistema formidabile e molto importante per l'agroalimentare della nostra regione. Il traffico ora una giornata difficile oggi anche sulle autostrade della nostra regione dove si incrociano i vacanzieri che ritornano dal periodo di vacanza e quelli che invece stanno raggiungendo le destinazioni, le mete delle proprie vacanze Autovie Venete ha deciso di chiudere nella mattinata di oggi l'entrata di Udine Sud in direzione Nodo di Palmanova Code anche in uscita al casello di San Dona di Piave in entrata al casello di La Tisana e poi traffico molto intenso anche in corrispondenza del Nodo di Palmanova e tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia Facciamo allora il punto nel prossimo servizio Weekend a Bollino Nero sulle strade del Friuli Venezia Giulia che vedranno transitare un notevole numero di turisti austriaci e tedeschi che da qualche anno scelgono la seconda parte del mese di agosto per soggiornare nelle località balneari Esodo e contro esodo che viene tradotto in termini di traffico molto intenso le cui prime avvisaglie si sono registrate già nel tardo pomeriggio di ieri ma già dalla mattinata di oggi sono arrivati i segnali del traffico in aumento tanto che già nelle prime ore del giorno una colonna di auto, caravan e roulotte ha raggiunto verso le 9.45 i 6 chilometri con la conseguente decisione di chiudere l'entrata di Udine Sud in direzione Nodo-Palmanova Da segnalare anche che prima dello stop al casello di Udine Sud si sono verificati due incidenti in A4 il primo sul tratto porpetto Palmanova un autoveicolo coinvolto e una mezz'ora più tardi un secondo a 5 chilometri da grado in cui le due auto coinvolte sono finite nel fossato Traffico estremamente intenso sia in direzione Trieste che in direzione Venezia con una temporanea congestione fra La Tisana e il Bivio A4 a 23 a causa di un tamponamento fra tre autovetture in corsia di sorpasso che ha causato il temporaneo blocco del traffico Code sono segnalate in uscita al casello di Sandona di Piave e in entrata al casello di La Tisana mentre fra il nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia si registrano rallentamenti a causa di traffico intenso Per la giornata di domenica la situazione sulle strade non sembra destinata a migliorare si consiglia dunque la viabilità alternativa per raggiungere le località di mare Andiamo a vedere qual è la situazione in tempo reale Andiamo sul sito infotraffico di Autovie Venete e vediamo appunto la linea rossa che ci segnala i rallentamenti e le code in questi tratti di autostrada quindi in corrispondenza del nodo tra la A4 e la A23 a Palmanova fino a La Tisana come abbiamo sentito anche nel servizio anche il piazzale d'ingresso al casello autostradale di La Tisana è particolarmente affollato e poi vediamo anche in zona Lisert un altro avviso, un altro piccolo segnale che ci ricorda appunto le code a causa di traffico intenso alla barriera delle Lisert di Trieste ecco qua quindi gli aggiornamenti in tempo reale e tanti turisti che in questi giorni, in queste settimane hanno soggiornato a Lignano proprio a Lignano abbiamo intervistato l'assessore regionale al turismo Bini che ha fatto un po' il punto della situazione annunciando anche l'intenzione di voler continuare a investire per migliorare le strutture nelle località turistiche della nostra regione sentiamo l'intervista Sembra che quest'anno sia stato un anno molto positivo per quanto riguarda Lignano-Sabbiadaro ma non solo, un po' tutte le località turistiche del Friuli Venezia e Giulia chiuderemo senz'altro la stagione con il segno più un incremento importante di turisti stranieri un po' meno per quanto riguarda i turisti italiani comunque nel complesso un feragosto con un overbooking un po' dappertutto fila in mare, fila in monti quindi assolutamente positivo quello che sta accadendo per la nostra regione stiamo lavorando, ecco il sottoscritto ha tra le proprie priorità proprio cercare di migliorare quella con l'offerta turistica della nostra regione a aumentare la qualità, migliorare la qualità e a modernare un po' tutte quelle che sono le nostre strutture ricettive i prossimi mesi lavoreremo veramente pancia a terra affinché si possa creare un piano strategico di rilancio del Friuli Venezia e Giulia da un punto di vista turistico Rientriamo in studio adesso e apriamo la consueta parentesi dedicata all'ospite prima però vediamo assieme questa breve clip ecco rendere possibile ciò che è impossibile questo uno slogan, una frase pronunciata da Franco Basaglia alla fine degli anni 70 presa da spunto dal Consorzio Il Mosaico per un'iniziativa in programma l'8 settembre a Palmanova e ne parliamo con Anna Sabbati del Consorzio Il Mosaico buongiorno e benvenuta in studio portare il mare a Palmanova nella centralissima piazza grande di Palmanova per raggiungere quale obiettivo, lanciare quale messaggio? beh appunto sono passati 40 anni dalla legge Basaglia e il Consorzio di cooperative sociali per il quale lavoro il Consorzio Il Mosaico intende festeggiare proprio questa ricorrenza in collaborazione col Comune di Palmanova con la società di promozione e comunicazione Crea e l'associazione Apio Aoud di architetti dell'Università di Udine e il patrocinio anche dell'azienda sanitaria numero due vogliamo che sia un momento di festa e ci piace l'idea di passare il messaggio che il tema della salute mentale è un tema che riguarda tutti e per questo abbiamo pensato a un modo alternativo di parlarne quindi a una festa con un clima leggero sicuramente non banale in cui tutti possano partecipare e contribuire appunto a rendere possibile l'impossibile vestiti di azzurro portiamo il mare in una città ecco quindi un mare che viene portato a Palmanova attraverso i colori dell'abbigliamento di chi parteciperà a questa iniziativa concretamente come si fa per partecipare quali consigli, quali indicazioni possiamo dare? allora l'evento è spiegato diciamo sulla pagina Facebook del Consorzio Il Mosaico c'è una pagina ad hoc dedicata dove si possono trovare tutte le informazioni e per le iscrizioni si può andare sul sito ilmareapalmanova.eventbrite.it dal quale appunto si possono prenotare i biglietti gratuiti per l'evento dopodiché saremo noi a contattare i singoli partecipanti per dare istruzioni più dettagliate un'iniziativa diceva realizzata dal Consorzio di Cooperative Sociali il Mosaico ci racconta qualcosa dell'attività che voi portate avanti come cooperative sociali in particolare per quanto riguarda il settore delle malattie mentali? certo allora il Consorzio Mosaico lavora da più di vent'anni nella bassa friulana e nell'isontino siamo 12 cooperative sociali e lavoriamo nell'ambito insomma della salute mentale principalmente ma anche con giovani con anziani con la disabilità per quanto riguarda appunto la salute mentale collaboriamo con i 4 CSM di La Tisana Palmanova Gorizia e Monfalcone con dei progetti che riguardano sostanzialmente i tre assi sui quali noi siamo abituati a lavorare con le persone che si trovano ad affrontare dei momenti di difficoltà e quindi l'asse casa l'asse lavoro e l'asse socialità questo significa che cerchiamo appunto assieme al Dipartimento di Salute Mentale di aiutare queste persone a trovare la loro dimensione in ognuno di questi ambiti In questo momento di cosa c'è bisogno in particolare per quanto riguarda la vostra attività parlato di questi tre asset avete delle richieste da avanzare anche alla politica a chi si occupa a livelli alti ai piani alti della gestione anche della sanità regionale cosa manca? Sicuramente l'attenzione deve essere sempre mantenuta viva da più parti si dice insomma che mancano le risorse manca il personale in Italia si assiste insomma a una grande differenza anche fra le varie regioni quello che da parte nostra insomma riteniamo sia importante è riuscire a coinvolgere il territorio le comunità perché il tema della salute mentale come dicevo prima davvero riguarda tutti l'OMS stima che nell'arco di dieci anni le malattie mentali supereranno quelle cardiovascolari tanto per intenderci e quindi se tutti lavoriamo in tal senso anche indirettamente possiamo creare un clima un contesto favorevole affinché chiunque attraversi un momento di difficoltà possa trovare intorno a sé le risorse per superarlo a 40 anni dalla legge Basaglia così per ritornare un po' anche allo spunto di partenza di questo nostro approfondimento sono davvero cambiate le cose è cambiato il modo di gestire i problemi legati alla salute mentale adesso quale passo ulteriore bisogna fare quello che si dice in effetti un po' nel nostro ambiente è stata fatta la legge 180 ma non possiamo fermarci qui lo stesso Basaglia non avrebbe voluto che ci fermassimo qua c'è da lavorare come dicevo sui territori sulle possibilità che chiunque può offrire insomma queste persone c'è da trovare risorse e da avere il coraggio anche di sperimentare cose nuove 40 anni fa quello che Basaglia proponeva probabilmente ha spaventato molti spaventava molti e non si credeva possibile e invece l'impossibile può diventare possibili quindi tante nuove sfide ci attendono grazie allora Anna Sabazzi per essere stata con noi oggi e ricordiamo l'appuntamento l'8 settembre a Palmanova per portare questo mare nel cuore della città fortezza passiamo allo sport adesso vigilia di campionato di campionato vigilia della prima gara per il prossimo campionato anche per l'Udinese Udinese che domani sera affronterà il Parma allora andiamo a sentire le parole di mister Velasquez che ha chiuso pochi minuti fa la consueta conferenza stampa prepartita sentiamo mi sono confrontati con con la proprietà noi siamo d'accordo in tutto abbiamo parlato tutti i giorni di tutto questo e il mercato è molto dinamico e io sono soddisfatto con il lavoro della società e sempre sempre abbiamo parlato e penso che abbiamo una squadra forte una squadra joven una squadra per lavorare giorno a giorno il modulo è molto dinamico il modulo è molto dinamico è un modulo ma quando fischia l'arbitro e hai 150 modulo con sta pronto perché per esempio altra settimana fa un gol in Turchia in Turchia allenato con normalità sta pronto sta al 100% e domani può giocare o non giocare ma sta pronto sta pronto già dopo la situazione di Alessandro è differente cinque giorni dove non ha allenato con normalità e adesso non è la stessa cosa che William per esempio adesso non viaggia non arriva con noi a Parma questa settimana e Lucas è differente non è pronto può essere che non è pronto per giocare inizio ma arriva con noi a Parma queste dunque le parole di Mr. Velasquez noi siamo in chiusura di questo nostro Tg prima di salutarci uno sguardo alle previsioni del tempo gli esperti dell'Osmer Arpa per il pomeriggio di oggi annunciano la possibilità di qualche rovescio temporalesco in montagna che potrebbe interessare anche qualche zona di pianura dal tramonto il tempo tornerà ad essere in genere più stabile e termometro che nel pomeriggio toccherà i 32 35 gradi di massima in pianura vediamo anche le previsioni per domani domenica bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso con aria secca sulla costa Bora moderata nel pomeriggio farà caldo sulle zone pianeggianti mentre sui monti si avrà qualche annuvolamento locale sulla costa Borino o forse anche Brezza vediamo termometro domani in salita 33 35 gradi di massima in pianura ed è tutto per questa edizione del nostro tg l'informazione ritorna questa sera alle 19 grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata su di news e tv grazie per la vostra grazie per la vostra